Vi sfido a indovinare che cos'è quello che state vedendo. Se avete detto Minecraft, avete sbagliato. O meglio, non è il Minecraft originale, ma una copia creata da un'intelligenza artificiale chiamata Sora. La stessa che nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per la ragazza che cammina per le vie di Tokyo e il mostriciattolo tenero che gioca con la candela. I creatori di questa tecnologia hanno dichiarato che Sora può simulare processi artificiali e mondi digitali complessi come quelli dei videogiochi moderni. In effetti se lo riguardiamo con attenzione si possono notare tanti particolari strani come i ciuffi d'erba, le nuvole nel cielo, la faccia del maiale o il fatto che cammini all'indietro e pure quell'abominio in mezzo al lago. Però oh, questa roba è stata creata partendo da un testo scritto e ha pure il ray tracing. Questa tra un paio d'anni ti caga giochi completi.